L'Oius Soli fa discutere anche la politica ferrarese un'ora prima della seduta del Consiglio Comunale in cui il PD, attraverso il consigliere Tommaso Cristofori, ha chiesto la procedura d'urgenza per un ordine del giorno in cui si chiede di stimolare Roma, prima della scadenza della legislatura, di approvare la legge sull'Oius Soli, il centrodestra di Ferrara si è unito e sotto allo scallone del municipio ha manifestato contro la presentazione del documento. Forza Italia e Gol infatti non sono contro l'Oius Soli a priori ma sono contro il progetto di legge presentato dal PD. La Lega Nord invece affonda ancora di più e dice no con forza allo Ius Soli. La legge sull'Oius Soli c'è già ed era quella dell'On. Martelli, era una legge fatta abbastanza bene che imponeva a chi, anzi dava la possibilità a chi stava sul nostro suolo per dieci anni, che avesse frequentato le nostre scuole, che avesse seguito i nostri corsi, che fosse di fatto diventato italiano, di poter acquisire la cittadinanza italiana, che è molto diversa da un diritto di nascita che sembra quello a cui il PD poco alla volta stia andando incontro. Ci saremo aspettati che il Partito Democratico utilizzasse la procedura di urgenza per risolvere il problema sicurezza, per abbassare le tasse, per risolvere la crisi economica della città. Questi sono i temi che necessitano di una procedura di urgenza. Non credo che a Roma attendino le dichiarazioni di Tagliani e Viteglio per discutere o decidere sullo Ius Soli. A Ferrara ci sono altri problemi da affrontare con la massima urgenza in Consiglio Comunale. Gli risponde il consigliere segretario del PD Luigi Viteglio. I bambini che nascono qui in Italia, che studiano con i nostri figli, sono bambini italiani. Io credo che non serva tempo di discussione, io non credo che servano tante discussioni per affermare questo semplice diritto. Invece mi fanno un po' preoccupazione, mi dà preoccupazione che ogni volta che si parla di un diritto dice sempre il ma. Alla manifestazione era presente anche il Movimento 5 Stelle. Siamo fortemente contrari perché crediamo che sia una strumentalizzazione politica in confronto di un problema che il Movimento già dice non solo di portata nazionale ma di portata addirittura europea. Quindi non vedo perché comunque creare una situazione in cui si crea imbarazzo le varie parti politiche perché poi chi sarà contro o a favore verrà giudicato da una parte o dall'altra sulla base di parametri che comunque non hanno a che vedere con il Consiglio Comunale di Ferrara. Un'adesione che all'interno del Movimento ha creato non poche frizioni. Chi le confonde fa proprio il gioco del Partito Democratico che mette tutto in un calderone per poter poi colpire indifferentemente sulla base di una disinformazione che poi questo per noi è il vero populismo. L'urgenza è necessaria perché la legge va approvata prima della fine della legislatura sostiene il consigliere che ha presentato il documento, Tommaso Cristofori. Credo che questa legge sia necessaria perché ragazzi che, come avviene anche qua a Ferrara, ragazzi che frequentano le nostre scuole, le nostre associazioni, le nostre università hanno diritto di essere riconosciuti perché in fin dei conti la cittadinanza io credo che sia un diritto ad essere riconosciuti come persone che ti vivono accanto e quindi è giusto che possano usufruire di tutti i diritti e anche i doveri che un cittadino italiano deve adempiere.